Il centrodestra ripropone l'immagine di una coalizione unita e solida, al lavoro per avanzare proposte concrete nell'ottica di una nuova collaborazione, aperta anche alle forze di maggioranza. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani presentano, insieme con i più piccoli, N.C., Udc e Cambiamo, le proposte che confiranno in emendamenti alla legge di bilancio, 2 miliardi per azzerare i versamenti a carico di partite IVA, autonomi, artigiani e professionisti, fondi e proposte in vista della riapertura delle scuole e tutela delle associazioni di volontariato. L'obiettivo è di presentarsi uniti, come alternativa credibile a una maggioranza sempre più litigiosa e divisa. Spiegano dopo i chiarimenti chiesti da Meloni, quindi, Salvini si corregge sulla proposta, fatta nei giorni scorsi, di un governo ponte che traghetti verso le politiche anticipate. A Palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force, crisi. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e degli italiani. Se ci fosse questa squadra a gestire questa fase gli italiani sarebbero più sereni. Questo governo prima toglie il disturbo e meglio sarà per gli italiani, attacca il segretario leghista vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi. Se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà, chiarisce, saremmo disponibili a parlare con chi in Parlamento fosse d'accordo a fronte di proposte concrete come queste, aggiunge Salvini. Mi confido che nel centrodestra si continui a lavorare compatti per raggiungere sintesi fondamentali, afferma, dal canto suo Meloni, che, ieri, in un'intervista, aveva espresso stupore per l'apertura di Salvini al governo ponte. Per nessuno di noi esiste più uno scenario nel quale si va con altri. Vogliamo governare questo paese insieme, sottolinea la presidente di FDI.